MISEREME IDEUS SECONDO MAGNIA MISERITORI Dio, nostro Padre, concede al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione. MISERAZIONUM TUARUM DELE INIGUITATE MEA ANTRIUS LA MATE E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. AMEN